presa diretta numero 13 dedicata ad un portatilone acer la spire v15 nitro ovvero il modello che ci ha fatto da walkstation durante il mobile world congress la configurazione che ho provato è la 592 g si trova in italia attorno ai 1400 euro poi dipende dal negozio ea processore core i7 sky lake quindi quad core di ultima generazione 16 giga di ram su due canali 8 e 8 ram che è anche aggiornabile due dischi uno hdd classico toshiba da un terabyte abbinato ad una ssd samsung pci express con prestazioni da paura che fa 2000 qualcosa in 1700 qualcosa in lettura e scrittura e poi il resto in una configurazione con wifi ac con la gigabit ethernet perché questo portatile nonostante sia come vedete sottile comprende anche una gigabit ethernet nascosta qua da questo sportellino e non è affatto comune trovarla e poi soprattutto una scheda grafica dedicata a una nvidia geforce gtx 960 m abbinata all'intel 530 che è alla base di questa piattaforma hardware ora io l'ho usato solo per qualche giorno non ho fatto tutti i test di rito però brevemente in due minuti vi dico come va la tastiera è molto larga vedete anche il tastierino numerico cosa che nei portatili da 15 pollici come il macbook pro da 15 lo stesso xps 15 non c'è inserire questo tastierino però ha costretto a ridurre un po i tasti non tanto i principali come vedete ma la linea in alto e gli stessi qua del tastierino sono più piccoli rispetto ai principali un po noioso avere questa linea con dei tasti sfalsati ma vabbè eccellente invece il touchpad ed è assolutamente una sorpresa è reattivo è ruvido quanto basta si sente la differenza dal poggia polsi in gomma opaca vi aiuta davvero ad usare windows guardate quanto riesco ad essere veloce nel movimento è un touchpad che una volta ogni tanto ci permette di non portarsi dietro il mouse è assolutamente un buon risultato andando avanti nell'uso di tutti i giorni lui chiaramente va benissimo con un ssd così veloce davvero non c'è mai bisogno di aspettare nulla lui ha in alcuni casi prestazioni migliore rispetto a xps 15 e al macbook pro da 15 ma anche a macchine come sa facebook che sono un pochetto più piccole chiaramente più portatili ma insomma si rivolgono sempre forse a quel tipo di utenza a noi ha fatto davvero comodo usare una macchina come questa piuttosto che i nostri ultrabook anche i 5 anche i 7 insomma top di gamma ma comunque basati sui processori dual core di fascia laptop per farvi capire con sony vegas lui riesce a fare il rendering di un file di 30 secondi con due tagli alcune dissolvenze all'interno un 1080p in 54 secondi mentre una spire s7 con il processore i7 di generazione passata ci mette un minuto e 34 e una macchina come xps 13 dell'ultima versione con processore i5 impiega due minuti e qualcosa c'è da pagare chiaramente qualcosa in termini energetici in termini di temperature lui qua con le sue due ventolone posizionate qua sul fondo che buttano fuori l'area dal retro quindi non dando avanti come altre macchine tutto qua esce dal retro raggiunge temperature più alte l'esterno questa parte arriva anche a 56 gradi mentre macchine come il dell'xps 15 e lo stesso macbook restano sempre attorno ai 50 di massima e sul cpu arriva ai 95 gradi critici diciamo dell'architettura mentre macchine come sempre il dell e apple arrivano stanno più giù del soprattutto arriva stanno agli 86 gradi a livello di rumorosità però non ho notato nulla di particolare anche qua le due ventoline sono molto soffici molto morbide tra l'altro qua c'è una tecnologia interessante di acer che ogni tanto ogni tot inverte il movimento delle ventole per sparare fuori l'eventuale polvere che si può che può essere depositata all'interno delle loro piccole pale per quanto riguarda l'autonomia beh questa configurazione con schermo full hd perché ne esiste anche una 4k ha una batteria da 52.5vh nel mio test di navigazione di navigazione web in wifi leggero come al solito ha ottenuto 6 ore e 51 minuti di autonomia considerate che il dell nello stesso test sfiora le 5 ore quindi sono due ore in più nonostante la batteria dimezzata dovuta proprio credo a questo a questo schermo ora chiaramente se voi andate ad utilizzare pesantemente la gpu integrata non so ad esempio per i giochi si riescono a gestire benissimo con un frame rate di 30 30 per secondo intendo titoli fino al 1080p voi riuscite scendete insomma riuscite a fare un'ora e mezza due ma se fate editing video come abbiamo fatto noi dovreste superare comunque bene le quattro ore ed è un buon un buon risultato per una macchina che comunque punta ad essere potente comoda ad utilizzare al tempo stesso anche non troppo spessa e non troppo pesante quindi consiglio questa spy vo 15 nitro a chi ha bisogno di una macchina a metà una macchina per il port per il multimediale un portatile di fascia alta che non costi troppo perché comunque il prezzo si parte da 1000 euro all'incirca dipende dalle configurazioni è più abbordabile rispetto ai top di gamma di altri rivali il difetto è a livello di ingombro guardate anche quel grossissimo alimentatore che sta là a terra pesa 500 grammi pari pari è un 135 watt ed è un pochetto più grossolano rispetto a quelli di altre marche no però insomma è un portatile che va bene assolutamente in questa configurazione full hd è da prendere con 16 giga di ram perché vi assicura una longevità davvero negli anni per maggiori informazioni ci sono tutta una serie di dati tecnici che non vi ho detto ho fatto delle tabelle di confronto con altri portatili per aiutarvi un po meglio nella scelta ho fatto qualche altra qualche altra foto e poi chiaramente vi ho lasciato anche link a tutte le altre recensioni che abbiamo fatto di questa categoria andate su hdblog.it online ho appena pubblicato la recensione qua sotto vi lascio il link per raggiungerla direttamente per iscrivervi al canale per mettere un mi piace al video vi ricordo anche che di presa diretta è disponibile una playlist quindi se volete vedervi gli altri 12 episodi precedenti basta cliccare registrarvi e guardarveli tutti quanti con calma ciao